L'Atalanta perde per 2-0 contro il Milan e chiude la stagione calcistica al terzo posto. Un risultato inaspettato ma assolutamente meritato. Molto importante da non sottovalutare con una terza qualificazione di Fila in Champions League che secondo me veramente ci racconta di una squadra che oramai non è più solo la regina delle provinciali ma una solida realtà a livello della Serie A e a livello europeo. Come al solito faccio un paio di considerazioni e poi voi nei commenti siete liberi di dire la vostra. Sulla partita voglio essere onesto e dare il mio punto di vista. I nostri giocatori arrivano dalla coccente delusione della finale di Coppa Italia e dallo stress che ne deriva. Io ho visto in maniera palpabile quella stanchezza che deriva quando scarichi tutta l'adrenalina. Inoltre le motivazioni non erano altissime perché i giocatori non sono dei ragionieri. Di conseguenza non mi sembra il caso di soffermarsi troppo sulla prestazione che non è stata bellissimo. Ma ci tengo particolarmente a evidenziare come nonostante la prestazione non sia stata brillante perché il Milan per vincere ha avuto bisogno dei rigori che fanno parte del gioco ma comunque ci raccontano una gara diversa e per ampie parti della partita l'Atalanta ha fatto comunque la padrona con un Milan che invece doveva essere pieno di motivazioni e in verità è stato un po' tendista. Questo secondo me dice tanto sul carattere e sulla determinazione di questa squadra. Per quanto riguarda i rigori assolutamente niente da dire. Magari uno non così plateale però francamente ci potevano stare entrambi. Fa specie che il Milan chiuda con 20 rigori la stagione ma di questo dobbiamo prendere atto. Io credo che dobbiamo dire grazie alla squadra e ai giocatori perché il terzo posto è tutt'altro che scontato ma dobbiamo anche ricordarci che è stata un'annata difficilissima per tutti perché abbiamo avuto ovviamente le situazioni legate al Covid abbiamo avuto il Final 8 di Champions League quindi non ci siamo mai fermati abbiamo avuto il problema di Papu Gomez, il problema di Ilicic abbiamo avuto diversi infortuni sugli esterni e nonostante ciò siamo arrivati terzi siamo entrati in Champions League. Non è un atto di gentilezza o di sudditanza nei confronti della squadra è il riconoscimento reale di uno sforzo e dell'ottenimento di un risultato che era tutt'altro che scontato perché ho questa stagione di alibi per non andare in Europa, per non andare in Champions League ce ne erano tantissimi perché effettivamente è successo di tutto ma nonostante questo il mister e la squadra sono riusciti a reinventarsi sono riusciti a fare un girone di ritorno strepitoso e sono riusciti a dimostrare ancora una volta che il punto forte di questa squadra è il gruppo e non i singoli se andiamo a vedere come siamo partiti, che eravamo all'Atalanta, di Ilicic e di Gomez e come siamo arrivati è veramente tangibile la trasformazione che abbiamo avuto e io credo che questo sia un merito che dobbiamo riconoscere sempre perché veramente poca squadra e veramente pochi allenatori riescono a fare questo passaggio in maniera totalmente indolore e credo anche che questo finale di stagione ci abbia raccontato un po' del futuro di un Malinoski che si è preso la scena, di un Muriel sempre più forte che alla televisione colombiana dice io voglio di più, voglio ottenere di più con l'Atalanta di alcuni giocatori che devono ancora trovare il loro spazio come Milan, come hanno dimostrato e di altri che dovranno farsi vedere però ci sono tutti i presupposti per iniziare una nuova stagione con caratter, con determinazione e con la volontà di divertirci e di ottenere ancora grandi successi sicuramente bisognerà fare delle riflessioni su dove ci troviamo e su dove vogliamo arrivare ma queste competono alla società e non a noi quello che resta però è una squadra che zitta zitta ottiene grandi risultati senza far rumore senza creare alcun tipo di caos o senza muovere montagne con il silenzio del lavoro e la costanza si ottengono dei grandissimi risultati e io francamente non vedo l'ora che riprenda il campionato, che inizi una nuova stagione per poter commentare ancora le grandi partite di questa squadra direi che ho detto tutto, ero una chiosa della stagione anche perché soffermarsi sulla partita in maniera precisa francamente era un po' di troppo io vi ringrazio tantissimo per l'affetto, vi lascio tutti i miei link in descrizione e ovviamente quest'estate non mancate di seguire atalantini.com per ricevere tutti gli aggiornamenti sul mercato e su quello che verrà ciao